Marco Impagliazzo, ben trovato. Grazie di essere qui. Marco Impagliazzo è presidente della comunità di Sant'Egidio, che ha raccolto da subito quello spirito di Assisi, che soffiò, correva l'anno 1986. E Giovanni Paolo II ebbe l'idea, perché ebbe lui l'idea? Ebbe lui l'idea, che fu un'idea profetica. Era l'86, c'era ancora la guerra fredda, il mondo era diviso in due. C'era ancora il muro di Berlino e la bandiera della pace era, secondo il Papa, troppo, poco nelle mani delle religioni e troppo nella ideologia comunista. E lui disse, ma le religioni hanno come fondamento, in tutti i loro testi sacri, la pace. Per noi cristiani Gesù è la pace. Quindi disse, dobbiamo rilanciare le religioni sul tema della pace per superare finalmente il mondo della guerra fredda e entrare in un mondo nuovo. Sì, c'era un po' di confusione, c'è sempre stata, forse c'è tuttora, tra pace e pacifismo, no? Qual è la differenza? Beh, la pace è un dono che viene da Dio, la pace la cerchiamo ogni giorno. Il pacifismo spesso è un'ideologia. La pace richiede degli operatori di pace. Pensiamo alle beatitudini, no? Beati gli operatori di pace. Quindi è una costruzione quotidiana di ogni giorno che parte nelle città, nei rapporti tra le persone, soprattutto nella città di oggi o nelle periferie, come direbbe Papa Francesco. C'è bisogno di pace a tanti livelli, fino ad arrivare a quelle pace tra i popoli, tra le etnie e anche tra le religioni. Sembra davvero un'utopia, ma ne parliamo dopo. Tu c'eri nell'86? Io c'ero nell'86. Eravamo almeno in due. Ma cosa ricordi di quel momento, di quel giorno? Ma ricordo tante cose, ma quella che mi è rimasta più cara è il Papa, con un grande freddo che c'era quel giorno ad Assisi, nella piazza di San Francesco, una piazza inferiore, davanti a una piccola scritta, pace in tutte le lingue, circondato da personalità di tutte le religioni del mondo. Vedere quell'immagine, quegli abiti, quelle tradizioni, quella sapienza, tutta riunita insieme, mi fece una grande impressione, perché dico, se tutta questa sapienza insieme per lavorare per la pace, qualcosa di buono verrà fuori. E potremmo dire cinicamente che non è vero, non è cambiato niente. Fu scandaloso allora, quindi è scandaloso tuttora pensare di provarci. L'evento che viene proposto quest'anno, come al solito, non sarà di un solo giorno, quindi comincerà il 18, il 19, il 20, con appunto la visa del Papa, il Presidente Mattarella, eccetera, eccetera. Ma i temi che sono stati proposti sono molti, sono vari, si va dall'ambiente all'economia. Posso chiederti cosa c'entrano con la fede? E' un modo per chiedere agli uomini e le donne di religione, ma assieme agli umanisti, ai laici, perché in questo cammino dall'86 a oggi una delle cose che è cambiata e che ha arricchito questo cammino è proprio la presenza di personalità del mondo laico, di non credenti. Ci sarà per esempio il grande sociologo Bauman per fare un nome, e chiedere a tutti gli uomini di buona volontà che siano religiosi o non religiosi di confrontarsi su quei temi che sono la base dello sviluppo della nostra società e del creare una società del vivere insieme dove tante disuguaglianze siano superate, perché oggi tanti conflitti nascono dal fatto che ci sono troppe disuguaglianze in questo mondo. Sì, e poi ci sono contrasti proprio tra le religioni che dovrebbero portare alla pace. Non c'è stato un salto dall'86 a oggi, questi incontri dello spirito di Assisi si sono susseguiti e hanno portato avanti anche sottotraccia un dialogo che superficialmente sembra davvero lacerato. È nel DNA della comunità di Sant'Egidio portare avanti questo dialogo, no? Assieme all'esercizio della carità. C'è proprio questa volontà di, lo sforzo di cercare un rapporto anche con religioni che possono sembrare nemiche qualche volta. Sì, io credo che noi cristiani non abbiamo nemici e la religione non può essere usata per creare nemicizie. Qui si dice che quando c'è c'è solo la pace santa, non può esserci nessuna guerra santa. Questo è uno dei fondamenti degli incontri di Assisi e dirò che sono cambiate molte cose dall'86 e oggi in positivo. Potrei elencare una serie di paci nate nello spirito di Assisi da quella del Mozambico del 1992 dal fatto che in Algeria per la prima volta nel 1994 quando morirono più di 100.000 persone un musulmano ad Assisi ci chiese ma perché voi cristiani non aiutate noi musulmani a cercare la pace? C'è un musulmano che chiede ai cristiani di riconciliare i musulmani. Poi in Guatemala, l'Albania. Sì, esatto. Ci sono la Costa d'Avorio, la Guinea. Ci sono tante paci nate nello spirito di Assisi perché oggi le religioni hanno come intuì profeticamente Giovanni Paolo II una maggiore rilevanza nella società non una minore e la devono usare per il bene. Parliamo continuamente di crisi di scristianizzazione di fondamentalismo nelle altre religioni. Sì, questa è una narrazione è una narrazione ma accanto a questa ce n'è un'altra ci sono milioni e milioni di persone che ogni giorno silenziosamente fanno del bene costruiscono la pace pensiamo a quanti poveri a quante persone in difficoltà hanno trovato una casa o nella chiesa o nella moschea o in altre religioni e quante persone sono sostenute sono curate e quante paci sono nate da questo. Naturalmente c'è questo nuovo fenomeno del terrorismo che ci ha colpito che ci ha toccato che ci tocca molto noi europei ma che come sappiamo miete soprattutto vittime in Medio Oriente e la maggior parte dei morti sono musulmani. Quando una religione viene usata per incitare la violenza e la morte di questa religione? Sì, tu hai detto parliamo schietto tu hai detto che in tutte le religioni c'è il DNA di un messaggio di pace e di fratellanza però è nel Corano la guerra santa come precetto per i fedeli? Sì, guerra santa diciamo jihad nel Corano innanzitutto Lo chiedo perché tu sei innanzitutto uno storico insegni tra l'altro l'università per stranieri di Perugia quindi uno storico che traduce poi la teoria anche nella pratica quotidiana di rapporti e in particolare sei uno studioso del confronto tra le religioni e il Mediterraneo Sì la parola jihad nasce nell'Islam soprattutto con il significato di conversione personale adesso uso un termine cristiano diciamo di fare una lotta contro se stessi poi nel tempo diciamo questa lotta contro se stessi che resta il primo punto diciamo della jihad è quella di lottare per la diffusione della religione poi ci sono state tante derive diciamo a questa interpretazione le peggiori sono quelle appunto dell'Isis o di altre sigle diciamo che abbiamo conosciuto negli anni che però sono state recentemente smentite in maniera molto efficace anche dai grandi teologi musulmani forse ancora troppo poco ma un cammino forte nell'Islam di autocritica è iniziato anche di lotta contro queste derive voglio dire i terroristi si appellano al Corano ci saranno naturalmente e credo preminenti delle ragioni economiche che li muovono però non si bruciano le chiese per ragioni economiche non si crocifigano i cristiani per ragioni economiche no purtroppo no noi cristiani siamo un simbolo le chiese sono un simbolo come lo erano le sinagoge durante il nazismo come lo sono i luoghi religiosi in India colpire diciamo un luogo religioso è qualcosa di simbolico che purtroppo colpisce una comunità e i terroristi usano questo proprio per dividere le comunità io penso oggi alla città di Aleppo che è una città che soffre tantissimo di una guerra ormai di più di cinque anni e qui stanno a giocare di tattica alle grandi potenze no? di tattica alle grandi potenze e poi il terrorismo che vuole sostanzialmente far finire tutto ciò che nel mondo è qualcosa in cui si vive insieme si convive tra religioni tra persone diverse invece la realtà del nostro futuro è proprio quella del convivere pensiamo all'Europa che è diventato un continente sostanzialmente di europei e di nuovi europei anche qui hai una visione molto ottimistica positiva non sembra che le premesse siano queste per il futuro stanno rinfocolandosi odie e divisioni pesanti le premesse non sembra siano queste anche se secondo me la società sta crescendo si sta rendendo conto di tante cose noi abbiamo avuto come la comunità di Sant'Egidio un'esperienza bellissima a questo livello con i cosiddetti corridoi umanitari che abbiamo aperto appunto insieme alle comunità protestanti in Italia per far viaggiare in sicurezza le persone vulnerabili dalla guerra di Siria ebbene rispetto ai visti che ci ha concesso il governo italiano abbiamo tre volte domande in più di accoglienza da parte di famiglie comunità imprenditori parrocchie e quindi c'è una società civile che si sta muovendo ho parlato tanto un anno fa quando sono nati poi appunto volevo chiederti se continuano perché non c'è tutta questa letteratura su questa iniziativa ecumenica peraltro un'iniziativa ecumenica che sta andando molto bene perché l'inserimento è ottimo sono persone che non vanno a finire nei centri vari di detenzione ma vanno a finire nelle comunità come diceva Francesco sono le comunità ad accogliere e noi anche grazie a tanti cattolici italiani siamo riusciti parrocchie movimenti associazioni singole famiglie ad aiutare l'inserimento di queste persone oggi molte studiano l'italiano la nostra lingua la nostra cultura i bambini sono inseriti nelle scuole diciamo che i corridoi umanitari portano sono l'antecamera dell'integrazione difficoltà di rapporti anche se non guerra in questo tempo ci sono anche tra cristiani penso soprattutto con la chiesa ortodossa russa una ferita proprio nel cuore di quel che sia una sola cosa che peraltro è una richiesta precisa di Gesù ci sono anche rappresentanti della chiesa ortodossa russa ad Assisi se no perché? ci sono tutte le chiese ortodosse perché stiamo aspettando la risposta adesso dei russi ma il problema degli ortodossi russi non è con noi cattolici è una una questione che deriva dall'ultimo sinodo diciamo pan ortodosso che è stato celebrato a Creta su iniziativa del patriarca Bartolomeo ci sono tensioni tra ortodossi oggi e contemporaneamente ad Assisi c'è la commissione cattolica ortodossa che lavorerà a Chieti sotto gli auspici di Monsignor Forte del cardinale Koch quindi ci sono tanti cammini più o meno diciamo sotterranei che ci stanno portando a una realtà di unità bisogna avere la pazienza anche che le cose che si dovrebbero capire e fare subito maturino col tempo qualcuno parla di pazienza geologica ma noi la più grande forma di pazienza la stiamo esercitando nella preghiera perché gli incontri nello spirito di Assisi sono innanzitutto incontri di preghiera naturalmente ogni religione prega secondo la sua tradizione non c'è sincretismo in questo e sono 30 anni che preghiamo e noi molti ci dicono ma a che serve pregare certamente è servito perché il mondo sarebbe stato peggio senza la preghiera di questo ne sono veramente convinto lo dico pensando al Mozambico lo dico pensando alla Costa d'Avorio al Guatemala e quando le cose non vanno bene e quando le cose non vanno bene bisogna pregare di più e non pregare di meno e non fare sempre il discorso catastrofista a che è servito a che serve a che serve bisogna continuare insistere come diceva lei bisogna avere tanta pazienza nella vita il Signore l'ha avuta con noi e noi dobbiamo avere tanta pazienza un conto è parlare da una prospettiva di fede però ci sono anche persone non credenti che partecipano a questi incontri a cui non possiamo chiedere di pregare no? non possiamo chiedere di pregare ma possiamo chiedere di essere insieme di condividere alcuni valori e di camminare insieme in fondo loro non pregano con noi ma camminano con noi come dice Gesù bisogna fare più miglia insieme per mettersi d'accordo per esempio con i musulmani che sono vostri amici come si discute come si parla di quello che sta succedendo cosa potete chiederci di? ma ci sono due fatti fondamentali uno è che l'amicizia con queste persone avviene attraverso quello che si chiama il dialogo dell'amore cioè partire innanzitutto da una conoscenza più approfondita gli uni degli altri e poi di tante situazioni di dolore il dolore delle persone ci sta unendo la sofferenza delle persone ci sta unendo la guerra il combattere le guerre costruire insieme la pace ci sta unendo e l'altro tema è quello dell'autocritica noi dobbiamo essere più autocritici cioè dobbiamo essere più autocritici e chiederci abbiamo fatto abbastanza abbiamo lavorato abbastanza insieme qualcuno dice che i cristiani sono molto pronti a fare autocritica da quando soprattutto Giovanni Paolo II ha iniziato a chiedere perdono gli altri non lo fanno mai e lo so io non posso rispondere per gli altri ma posso dire che noi la nostra autocritica certamente è di stimolo anche per gli altri e delle autocritiche le ho ascoltate Marco Impagliazzo citavi prima alcuni diamoci del tu comunque citavi prima alcuni dei successi o dei segni cristianamente intesi che hanno potuto portare a ribaltare situazioni che si pensavano irrisolvibili un altro cui magari non avete partecipato in maniera così diretta penso al Centrafrica c'è andato il Papa si è fermata una guerra che sembrava dilaniante come si fa come si fa a far fare la pace cioè il mondo direbbe si offre qualcosa in cambio allora innanzitutto per fare la pace bisogna ascoltare perché tante volte le organizzazioni internazionali o i grandi stati non hanno tempo non hanno appunto la pazienza di ascoltare tu devi ascoltare tutte le parti in lotta e non cominciare a dire tu hai ragione tu hai torto eccetera ascoltare le ragioni perché sta succedendo quello che sta succedendo e poi secondo la vecchia teoria di Papa Giovanni del Santo Papa Giovanni cercare quello che unisce e mettere da parte quello che divide ma non escludere mai nessuno dalle trattative perché ci sono anche delle piccole guerriglie o dei piccoli movimenti che possono crearti più problemi di altri invece bisogna includere includere tutti non vi lasciano andare in Libia in Siria ci lasciano andare abbiamo noi qualche perplessità ad andare in certi momenti perché tante volte andare può essere solo un esporsi negativamente sulla Libia abbiamo fatto una bellissima cosa le tribù del sud della Libia sono venute a Sant'Egidio si sono unite su un punto lasciar passare gli aiuti umanitari perché lì ci sono tantissimi tra gli emigrati dall'Africa che sono diciamo parcheggiati tra virgolette in condizioni terribili in varie parti della Libia questo è un accordo sia Tripoli che Tobruk questo per adesso la parte sud delle tribù con cui noi abbiamo trattato hanno fatto entrare medicinali aiuti umanitari eccetera abbiamo verificato che questo è andato bene lo stesso modello vorremmo cercarlo per le altre punto Tripoli e Tobruk gli ossi più dure anche perché non agiscono da soli però come come si diceva prima la pazienza di ascoltare la pazienza di andare avanti passo dopo passo non dire domani firmiamo una pace che poi non sarà applicata bisogna vedere le condizioni e bisogna andare piano piano ma andare fino alla fine solo che alle volte c'è proprio l'urgenza c'è proprio l'urgenza la questione libica e siriana tante volte però la fretta su queste cose è peggio perché poi dopo la situazione è peggiore e basta no io quello che temo e lo dico allo storico anche è che dove non si riesce con urgenza arrivano poi le bombe no? no ma questo è un grande dolore è una grande ferita chi lavora per la pace purtroppo è anche molto vulnerabile nel senso che per noi almeno di Sant'Egidio vedere e continuare a ascoltare il lamento di queste persone è una grande ferita per cui noi appunto lavoriamo ci impegniamo però anche preghiamo tanto perché lì forse arriverà anche una consolazione a proposito di pace sei uno studioso di storia degli armeni e del genocidio che ha iniziato l'epoca degli stermini più terribile nella nostra storia recente perché continuiamo a fidarci di Erdogan? lo sterminio armeno è passato e deve essere una memoria costante come ha detto il Papa però lo sterminio dei kurdi è vero che i terroristi sono tutti uguali come dice Erdogan oppure bisogna preservare quel popolo? beh naturalmente i kurdi hanno hanno una lunga storia non sono diciamo non sono terroristi sono un popolo che diciamo vive in tante parti diciamo del Medio Oriente e ha una sua storia all'interno ci sono anche dei movimenti diciamo violenti e quindi io non non credo mai diciamo nessuno che da nessuna parte venga questa questo discorso all'equazione che un popolo è uguale a terrorista ecco credo che esistano so che esistono dei gruppi terroristi ma ogni popolo diciamo ha le sue caratteristiche ha la sua storia e ha il suo diritto di vivere una delle iniziative più recenti della comunità di Sant'Egidio dicevo è quella dei dei corridoi umanitari io posso citare anche moltissime iniziative che non vengono ribaltate sui medie che sono quotidiane che sono non dico di città ma che sono di quartiere o quasi di condominio che sono le tante opere in cui si si esplica poi la fantasia anche delle persone di fede per gli inziani per gli ammalati per i poveri per gli immigrati per i nomadi per i bambini quindi insomma per quelli che sono gli ultimi o quelli che sono dimenticati però nel vostro manifesto nella presentazione che fate di voi anche sui social eccetera si dice che la priorità è la preghiera perché? beh perché per noi diciamo non esisterebbe e non avrebbe continuità e non avrebbe profezia è forza un impegno per i poveri un servizio per le persone più bisognose senza il sostegno della preghiera che prende che ha come fonte diciamo la lettura del Vangelo e della parola di Dio perché se il bene viene soltanto da noi è un bene diciamo che a un certo punto per i tanti motivi della storia personale ciascuno può essere interrotto può perdere di forza può essere concentrato su di sé per noi diciamo l'unità tra queste due dimensioni la dimensione della preghiera la dimensione del servizio è fondamentale noi abbiamo sempre letto a Sant'Egidio l'incontro di Gesù con Marta e Maria quando Gesù dice bisogna fermarsi ad ascoltare e subito dopo c'è il brano del buon samaritano questi due brani per noi vanno letti insieme c'è l'ascolto di Gesù solo dall'ascolto di Gesù può nascere la scelta del buon samaritano vi chiamano l'ONU di Trastevere la comunità di cui appunto sei il presidente da tantissimo tempo dal quartiere proprio dove ha la sua sede principale la sua sede proprio originaria e sapete suscitare anche parecchie critiche in particolare penso solo all'Italia per una partecipazione troppo attiva alla vita politica allora vi chiedo perché secondo voi è importante partecipare anche alla vita politica del paese? ma diciamo che la partecipazione politica per noi significa l'impegno di ogni giorno quello è un modo diciamo ampio di fare politica politica alta politica internazionale c'è stato qualcuno di noi che per una sua scelta personale ha intrapreso a un certo punto proprio a servizio diciamo della gente questo tipo di percorso sono pochissime persone ma la comunità di Sant'Egidio diciamo è una comunità cristiana quindi non fa politica partitica e soprattutto ma io non lo dicevo affatto in senso negativo io perché non bisogna vergognarsi di far politica ammesso che uno la faccia cercando di portare quello che vive e quindi di evitare quelli che sono i mali che ci pavano più diffusi cioè la corruzione il compromesso esasperato ma oggi ci sarebbe bisogno appunto di molti più cristiani tra virgolette facessero politica e c'è una disaffezione generale che noi misuriamo però io credo che bisogna trovare un modo nuovo di fare politica a partire dalle realtà locali a partire dai quartieri a partire dalle periferie lì oggi si gioca molto del futuro della politica che ormai la grande politica si fa a livello internazionale e in fondo un singolo cittadino che cosa può fare davanti e poi casca dall'alto ci sembra così sì esatto quindi intanto si può cominciare diciamo a lavorare a livello di base a livello di dove uno vive di dove uno lavora per soprattutto superare certe tensioni che oggi sono troppo forti nella nostra società particolarmente nelle periferie di questa politica si parla anche l'incontro di Assisi? anche di questa politica perché noi vorremmo essere lì ad Assisi non i rappresentanti delle religioni diciamo non parlo per me che personalmente dico le persone che abbiamo invitato ma la voce dei poveri e di chi soffre e dei periferici che come dicevo prima sono troppo poco ascoltati e se noi li ascoltassimo di più si troverebbero le soluzioni se noi ascoltassimo oggi quei poveracci di immigrati che stanno nella giungla di Calè invece di fare un muro allargare continuamente il muro ma li ascoltassimo di più forse potremmo trovare le soluzioni che certamente il muro non è mai una soluzione non è un'utopia questa poi bisogna scontrarsi con la realtà della gente che vive in quei luoghi che si sente invasa che si sente insicura cioè quanto c'è di utopia e quanto l'utopia in questo senso è anche non è un termine laico ma è una profezia cristiana che bisogna tenere viva ma occuparsi dei poveri aiutare i poveri o le persone che soffrono significa contemporaneamente far star meglio chi gli vive intorno e quindi non è che occuparsi dei poveri significa far soffrire i ricchi o chi vive in queste situazioni diciamo vuol dire migliorare la società in generale quindi migliorare la vita di tutti per questo non è un'utopia ma qualcosa di profondamente concreto ti ripeto sono stato molto colpito di come tanti italiani hanno voluto accogliere i profughi ci chiedono mandateci mandateci persone sono felici di farlo vedi si cresce insieme si migliora insieme chi è più ricco e chi è più povero ci vuole un'educazione anche del popolo no? ci vuole un'educazione ma in Italia questa educazione diciamo bisogna riscoprirla perché c'era riscoprirla c'era però diciamo c'è anche un grande tessuto diciamo naturalmente io parlo del tessuto religioso il tessuto parocchiale dei movimenti del grande mondo cattolico italiano che oggi si è arricchito anche di un grande tessuto ortodosso ricordiamoci ci sono più di un milione di ortodossi pensiamo in Italia in Italia sì tante parrocchie parrocchiette luoghi ospitati anche diciamo nelle nostre chiese e questo è bello noi temevamo un'invasione musulmana invece abbiamo avuto un arricchimento da parte degli ortodossi con l'immigrazione posso chiederti perché come hai incontrato la comunità di Sant'Egidio perché hai deciso di appartenervi? l'ho incontrato a scuola facevo la quinta ginnasio qui a Roma in una scuola del centro di Roma e durante una delle occupazioni che si facevano allora nel 77 alcuni ragazzi della comunità fecero un seminario il rapporto tra scuola e città e ci spiegarono come era fatta Roma che esistevano i quartieri della periferia gli sventramenti che aveva fatto il fascismo la via della conciliazione la via dei fori imperiali le borgate di Roma che erano nate in quegli anni e poi l'ultimo giorno di questo seminario dissero adesso siete invitati se volete a fare scuola ai bambini che hanno bisogno di voi noi eravamo liceali e come unica ricchezza diciamo avevamo quella della cultura e quindi andammo a fare scuola a questi bambini più poveri nel pomeriggio li chiamavamo allora le scuole della pace e da allora sono stato veramente contento di aver attraverso un bambino riscoperto la mia fede ecco perché stavo per dirti però non è un ANG no? è la comunità di Sant'Egio perché ci rimani? non è un ANG chietosa come direbbe il Papa uno si stanca dopo un po' perché uno rimane in un pezzo di chiesa così? uno rimane perché innanzitutto i poveri ti convertono ti fanno diventare una persona nuova ti chiamano a essere diverso e dall'altra perché appunto noi abbiamo sempre unito il servizio all'ascolto della parola di Dio e il Vangelo è molto esigente e mi ricorda diciamo che non devo vivere per me stesso ti rende anche più contento però vivere così? certamente una canzone per chiudere che sia soul molto soul non nel senso di genere musicale ma che racconti te Marco Impagliazzo adesso? abbiamo parlato tanto di cambiamento e io penso che la canzone che mi piace di più in questo senso è Todo Cambia di Mercedes Sosa un'argentina questa canzone fu scritta da un cileno però è la canzone nata durante l'immigrazione degli esuli cileni argentini dalle dittature e questa persona canta un mondo tutto nuovo che lui incontra però la nostalgia anche della sua terra ma in questo cambiamento trova anche la novità della sua vita penso a tanti profughi di oggi che vivendo con noi potranno trovare una vita diversa se cambieremo insieme e poi è una canzone sul movimento e quindi è una canzone della chiesa di Papa Francesco su Damose da Fa diceva anche qualcun altro grazie crediamoci ciao Marco è impegnato grazie a te grazie grazie a te video Grazie a tutti.